3, 2, 1, go! 1, go! Ragazzi e ragazzi, oggi siamo ritornati qui con un nuovo video challenge! Questo video challenge si tratta di un video challenge bellissimo, ovvero la spaghetti challenge! Ragazzi, questo video non l'abbiamo copiato da nessuno, se qualcun altro l'ha fatto o non fa niente, ma noi non lo sappiamo, è tutta creatività. Vi dico una cosa, una cosa, mangeremo senza la pacchetta e niente male. Le regole appunto sono di mangiare senza mani, cioè un piatto così buono non ce lo possiamo fare. E quindi ora aspettiamo gli spaghetti della nostra mamma. Gli spaghetti sono il sughetto fresco di nostra mamma, che buonissimo. Il sughetto fresco di mamma, pina, di mamma Maria. Quindi, 3, 2, 1, go! Incominciamo qui dentro, in coda senti il tempo e non il freddo, in quello che è all'incentro di Milano. Allora, sono arrivati i piatti, ora vi dobbiamo dire le regole e iniziare. Le regole saranno senza forchetta! Senza cucchiaro! Quindi ora, senza mani, ora, nostra mamma, grazie mamma che ci ha fatto così difficile il piatto, ci ha messo anche il basilico sopra, che poi è un odore buonissimo. Vi lo dobbiamo levare con la bocca. Ammigo via! Partite, contate voi! 3, 2, 1, go! Marghe ha tolto la foglia, Giulia non ci riesce. Marghe ha iniziato a mangiare. Giulia, soffia, soffia Giulia! Marghe è un cane affamato. Forza! Giulia ha fatto faccia, spaghetti, basilico e faccia. Guarda, va! Wow! E' di seno! Devo girare. L'importante che non tocchi gli spaghetti con le mani, le regole sono queste. Potete alzarvi, potete alzarvi. Sto prendendo il piatto. No, non ti posso usare. No, nemmeno le puoi usare. Però non c'è a dire. Sali in ginocchio sulla sedia. Guarda, Giulia, salti in ginocchio. Giulia che fa un gesto di che i spaghetti sono buoni. Marghe ritica con i capelli. Ancora, ancora ritica con i capelli, Marghe. Giulia sta recuperando, eh. Giulia sta recuperando. Giulia tra poco ti devora anche il piatto. Marghe, attenta che ti è quasi superato. La brucia. La brucia. Un po'. Marghe sta cercando qualcosa. Che cerchi, Marghe? Devi mangiare, non devi cercare nulla. Giulia ha messo anche la maglia nel piatto. Già lo sta pulendo. Che c'è, ti arrendi? Ti arrendi? Ti arrendi? Ti arrendi? Masticate, eh. Masticate. No, è un po'. Masticate. Marghe dice che sta bruciando. Dopo che si è mangiato mezzo piatto, dice che sta bruciando. Giulia sembra che è leggermente in vantaggio, eh. Vediamo un po'. Sembra che Giulia sia leggermente in vantaggio. Che cacchio. Marghe i capelli stanno pulendo il piatto. Lo so, pure i tuoi si vuoi. Giura, tra poco mangia anche il piatto, eh. Dico solo questo. Sembra... No, devi mangiare gli spaghetti. Beh, lo provo sempre. Marghe sta leccando il piatto. Si è trasformato in un cane. Giulia ha in vantaggio, eh. Marghe e Giulia penso che gli mancano 4-5 morsi di spaghetti. Ti arrendi? Marghe sta recuperando. Uh, Giulia ha fatto un boccone proprio enorme. Proprio t'ha affamata. Eh, quando ti arrendi, Giulia? Eh, ti sta superando, Giulia. Giulia ti sta superando. Gira il piatto, lo puoi girare, sì. Giulia ti ha quasi superato, Marghe. Siete quasi sul photo finish, quasi pari. Quasi pari. Mangano pochi spaghetti, Giulia. Non vale, Marghe viene squalificata. Marghe è squalificata, eh. Attenzione. Dovete pensare solo a mangiare. Siete quasi pari. Siete proprio sul filo della sua. Siete andati a campurro. Parovaccia squalificata. È bolleno. Allora, Giulia devi mangiare anche gli ultimi se vuoi vincere, perché Marghe sta recuperando. Vai, 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 vai. Vai ancora. Marghe, Marghe. Gli ultimi due, Giulia. Giulia c'è uno sulla tavola. Giulia c'è uno sulla tavola. Uno sulla tavola. Marghe ce la puoi fare a chi? C'è uno sulla tavola di Giulia? Stop! 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 Giulia te lecca. Beve anche. Stop! Marghe, per poco. Schiacciate il 5 perché è stata una bella gara. Marghe, siete che... Marghe. Schiacciate il 5 perché è stata... Giulia. Che è successo? Che è successo? Che è successo? Mi è fatta male. Mi soglia la mano. Come si è fatta male? Lo fa. Giulia. Esatto. Non devi usare la tovaglia. Brava, devi asciugare col tovaglino di carta. Cioè, io sto facendo una sfida e tu mi dici... Allora. La tovaglia. Io... Io vorrei fare un altro round. Un altro round? Un altro piatto? Allora, se raggiungiamo... 3.000 like... Ragazzi... Faremo un altro piatto più grande. O saranno tipo delle pennette o qualcos'altro. Ma stiamo scherzando? Quindi ragazzi, noi li lasciamo... Fammi sentire un poco. Come sono erano questi spaghetti? Io sono più freddo, tu mi fai parlare. Ma va a te. Quindi ragazzi, per me... Io ora bevo, 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 bevo. No, stop, fino alla gara, non facciamo, non facciamo, fino alla challenge. Vediamo un po' come erano questi spaghetti. Un voto da 1 a 10. Buonissimi. Per poco stavo per vincere, ma c'è questa porca che subito... Parla ha detto che se erai a 3.000 like ti dà una rivincita, eh? Però la facciamo più difficile. Eh, la rivincita è più difficile. Quindi ragazzi... Ai, mannaggia, pupa, un mazzo. Lei, vediamo un po', giuro, come erano questi spaghetti. Buoni, però noi li sono dovuti godere. Come il porcio. Io non voglio essere un porco. Ah, sei stata più brava, dai. Margaret, la accetti tu se ti dà la rivincita o no? Sì. O ti senti già sconfitta? Per poco. Adesso ti faccio bene. No, perché un giorno... 3.000 like, quindi? 3.000 like, prossima puntata. Eh, io sono male. Vabbè, Giulia è tra poco a vomitare. Quindi ragazzi, ormai vi dobbiamo lasciare perché tra poco Giulia vomita. Quindi ragazzi, questo è il video... Aspe, aspe, aspe. Dai, Margaret, aspe. Mi voglio vomitare, non sti scema. Aspe! Che ha fatto? Ha fatto la Giulietta. La sua Giulietta, come sempre. Sì! Allora, dai un voto a questi spaghetti. Margaret, non ho capito quando... Allora, io gli do il finito. Io gli do il finito. Io gli do il finito. Guarda. Quindi ragazzi, quella Giulia... Ah... Perché io sono più... Sì, sì. Quindi ragazzi, questo era il video... Aspe! Aspe! Quindi ragazzi, questo è il video... Se vi è piaciuto tantissimo... Iscrivetevi all'Instagram, MargaretGiuliaCavagli, da SinoMatoOfficial, su Facebook, MargaretGiuliaCavagli Real, sul secondo canale, MagicTV, su YouTube, ovviamente, MargaretGiuliaCavagli, e su musical.ly, piacerebbe la MargaretGiulia Real. Allora, vi mandiamo un bacione per me, Magichini e Magichini, e agli altri, tanto fate! Sì! Ciao!